Questa gente si era staccata dal popolo di Dio e per questo non poteva credere. La fede è un dono di Dio, ma la fede viene se tu sei nel suo popolo, se tu sei adesso nella Chiesa, se tu sei aiutato per i sacramenti, per i fratelli, per l'assamblea. Se tu credi che questa Chiesa è il popolo di Dio, questa gente si era staccata. Non credeva nel popolo di Dio, credeva soltanto nelle sue cose e così aveva costruito tutto un sistema di comandamenti che cacciavano via la gente e non la lasciavano entrare in Chiesa, nel popolo. Non potevano credere. Questo è il peccato di resistere lo Spirito Santo.